Raghi, siccome oggi devo andare a fare il vaccino prestissimo, purtroppo non riesco a farvi un video qui su questo canale Però mi raccomando, sono in live sulla Zoo Squad, proprio praticamente adesso, manca pochissimo Quindi vi sto aspettando, perché sarò in live su Zoo Squad ogni mercoledì con Roby e Fili, da sola, con Roby Insomma, tante sorprese, oggi in particolare faremo Roblox, quindi vi aspetto lì, link in descrizione il primo